L'amministrazione di Castellabate ha esternalizzato tutti i servizi più importanti, rifiuti e servizio idrico integrato. Gli effetti negativi superano di gran lunga quelli positivi e purtroppo saranno bene evidenti dalle bollette dei cittadini. A renderlo noto tramite un comunicato stampa, il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano. Inoltre continua a Maurano, a causa di una mancata o sbagliata concertazione tra le parti, alcuni dipendenti comunali prima impiegati in quei servizi, oggi esternalizzati, si trovano senza nessuna mansione ufficiale e specifica. Dopo anni di onorato lavoro sono stati messi in un limbo, pagati ma non utilizzati almeno ufficialmente. E' così che viene marginalizzato chi viene chiamato sporadicamente e non ufficialmente a svolgere mansioni senza nessuna garanzia o chi svolge compiti elementari nonostante abbia qualifiche e qualità superiori. Il patrimonio del comune di Castellabate, scuole, edifici pubblici, arredi urbani, centri storici, sottolinea il consigliere, hanno bisogno di continue manutenzioni e interventi. Se per esempio ad oggi si rompe una porta o c'è bisogno di riverniciare una ringhiera o c'è da rifare i bagni nelle scuole, o si deve installare un serbatoio o realizzare un impianto elettrico, o si devono avviare i riscaldamenti negli edifici pubblici, il comune si affida a ditte esterne con un'ingente spesa da sostenere da parte dei cittadini. Analizzando questi due problemi e nell'ottica di trasformare gli stessi in opportunità positive, ho proposto di istituire attraverso l'impiego dei dipendenti attualmente senza mansione specifica e ufficiale una squadra patrimonio che possa intervenire in maniera rapida e con la giusta qualifica per manutenere e ammodernare le scuole, le piazze, gli arredi urbani, gli edifici pubblici del comune di Castellabate.